Ciao a tutti, io sono Mohamed, ci troviamo al ristorante Arabo Nido in via Pietro Custodi al 4 in zona Navigli. Il nostro è un ristorante arabo dove ci vengono cucinati esclusivamente in casa, nulla è portato da fuori, è tutto fatto con le nostre mani. Noi siamo uno dei primi ristoranti arabi in Italia, uno dei più importanti a Milano. Abbiamo una cucina molto varia partendo dalla cucina della carne che è una macellazione halal. Uno dei nostri piatti più importanti è il couscous nel quale il procedimento di lavoro impiegato dura otto ore. Si parte dalla farina di semola fino ad arrivare al couscous, quello grezzo, fino a poi a servirlo a tavola con carne, verdura o pesce. Tutta la nostra cucina dal pane al dolce viene fatto appunto nel nostro laboratorio, comprensivo anche il pane partendo dalla farina e se giunge a un pane del tutto esclusivo, potete assaggiare solo da noi. Un saluto a tutti gli amici di Love Resto, vi aspettiamo nel nostro accoglientissimo ristorante. Grazie! 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 Grazie!